Musica Benvenuti benvenuti all'ultimo degli speciali della Chiesa nella città che abbiamo voluto dedicare all'anno pastorale 2011-2012 vedrete alcune immagini relative ai momenti salienti della nostra vita di Chiesa dall'ingresso solenne a Milano del Cardinale Scola nuovo arcivescovo ma non potevamo partire crediamo in modo migliore che con un'intervista esclusiva proprio al Cardinale che racconta con le sue stesse parole quelli che sono stati i temi più importanti fondamentali dei suoi mesi a Milano del suo primo anno pastorale. Eminenza il Santo Padre consegnandole il pallio ormai mesi fa disse l'arcivescovo viene da Milano e tutto il suo cuore è per Milano ormai si è concluso il primo anno pastorale nella nostra diocesi questo suo cuore è per Milano? Sì lo è lo è sempre di più ogni giorno di più mi è costato lasciare Venezia però intui che obbedire alla richiesta del Santo Padre voleva dire per me tornare a casa e questa è ancora la formula più bella sono tornato a casa mia nella Chiesa che mi ha generato che mi ha comunicato e trasmesso la fede che mi ha concesso una bella esperienza dell'infanzia appunto all'oratorio poi l'impegno con la gioventù studentesca con la FUCI con Comunione e Liberazione nella Chiesa che mi ha consentito di conoscere sacerdoti veramente dediti, zelanti uomini e donne solidamente impegnati con il Signore e perciò con i fratelli e poi attraverso questa Chiesa casa mia è la Milano in questo tempo di passaggio la città di mezzo che deve ridefinirsi deve ritrovare come sempre avviene in un passaggio di civiltà deve ritrovare un volto adeguato al nuovo millennio che deve essere capace di intuire che il nuovo non è l'inedito ma è la capacità di trapiantare l'antico dentro condizioni che si presentano per la prima volta e ce ne sono tante per la nostra realtà di oggi penso al processo di metriciamento di popoli che è in atto penso alla grave crisi e al travaglio socio economico che stiamo passando penso alla modalità con cui dobbiamo vivere tutti i beni che le scienze le tecnologie stanno mettendoci a disposizione la modalità con cui dobbiamo utilizzare la grande società delle reti penso alla necessità di ridare all'economia il suo vero volto in una parola dobbiamo ricostruire la città e per questo mi vengono in mente due immagini cioè la prima è quella di aristotile che dice che il benessere della società viene dalla filia cioè da un'amicizia civica dobbiamo ritrovare anche in una società plurale la passione per questa amicizia perciò dobbiamo avere il gusto della narrazione reciproca del confronto su tutto anche sulle cose che ci vedono divisi come concezione in modo da trovare un riconoscimento reciproco e per questo abbiamo bisogno di istituzioni valide e di buoni governanti e qui si può citare Platone quale diceva che un buon governante è un eccellente tessitore è colui che sa unire un ordito solido a una trama morbida e così le due caratteristiche di chi governa cioè la capacità di ascolto di adeguazione alle domande della società civile da una parte la trama morbida e dall'altra parte la capacità di decidere anche sfidando l'impopolarità l'ordito solido mettono in evidenza il tipo di uomo di governo di cui noi abbiamo bisogno a Milano ma non solo a Milano ovviamente in tutta la nostra realtà la riflessione per l'edificazione di una città giusta e richiama la centralità di Cristo roccia su cui costruisce l'uomo saggio e la crisi che anzitutto culturale frutto dello smarrimento del vivere e ancora quello bisogno di voi che segna anche la solennità del pontificale in un duomo gremito è la giornata attesa dell'ingresso in diocesi del cardinale angelo scola che culmina appunto nella celebrazione in cattedrale dove il cardinale arriva dopo i momenti di malgrate suo paese natale in cui mostra già per intero la sua grande umanità dialogando con i più piccoli ma il pensiero va anche ai soli ai malati agli anziani poi come tradizione la sosta qui incontra il sindaco pisapia nella basilica di sante ustorgio primo luogo della cristianizzazione di Milano città ricorda l'arcivescovo che è terra di mezzo da sempre crocevia d'incontro comunque accogliente e infine in duomo in piazza ci sono 25 mila persone dentro la cattedrale 8 mila lo accoglie il cardinale tettamanzi che gli consegnerà dopo poco il pastorale segno emblematico dice l'arcivescovo ormai emerito di continuità cita infatti scola il predecessore montini e la missione di Milano e richiamando il settimo incontro mondiale delle famiglie del 2012 indica la diocesi la riflessione comune dei prossimi mesi il significato dell'uomo donna del matrimonio della famiglia della vita la condivisione magnanima e perciò equilibrata delle fragilità delle forme di emarginazione del travaglio dell'immigrazione poi ringraziamento nel ricordo di una piazza del duomo anni 60 animata luogo di discussione spontanea ora i tempi sono diversi ma il valore di questo stile democratico rimane secondo me inalterato e ormai al tramonto dopo il significativo saluto anche ai tanti rappresentanti di altre confessioni e religioni proprio la piazza in festa che applaude e acclama un arcivescovo sorridente milano è può essere sempre di più un oasi da realizzare con un'opera comune il coinvolgimento di tutti il cardinale scola incontra come secondo appuntamento con le realtà sociali il mondo della cultura e della comunicazione al museo diocesano il suo è un intervento puntuale attento all'oggi e giocato in prospettiva anche se parte da ricordi personalissimi e lontani della città quelli visti con gli occhi del bambino angelo milano mi ha sempre citato la fantasia dice la prima cosa che voglio dire è che giusta la parola ritorno per me dopo tanto girare tanto pellegrinare e d'altra parte la serata insieme molto informale serena aperta dal vicario episcopale per la cultura monsignor franco giulio brambilla il cardinale ride quando giacomo poretti del famoso trio gli racconta la sua milano poetica ascolta quando lo scrittore palazzoli parla di via padova multietnica e vivacissima e del rischio che occorre accettare e ancora quando gianni riotta delinea un futuro pieno di luci ombre e poi il rettore della statale de clema che sottolinea la vocazione alta in tutti i sensi della metropoli l'arcivescovo pare rispondere a tutti quando spiega che in questa società così fluida occorre mettere al centro qualcosa di solido di fermo non abbiamo altra strada per porre qualcosa di solido su cui costruire per camminare che non sia l'insieme l'universale che può tenere insieme la nostra società è il bene pratico sociale assunto come scelta politica di essere insieme d'altra parte l'arcivescovo stesso a richiamare i suoi giorni di formazione culturale senza pregiudizi anche da seminarista a parigi nel fatidico 68 quindi al mese di luglio del 68 in cinque o sei seminaristi siamo andati a parigi e abbiamo cercato di capire cosa succedeva e grazie all'inventiva di qualcuno mi hanno cominciato a suonare campanelli campanelli come quello di levinà come quello di derida come quello di altusser come quello appunto di deserto da qui la convinzione che sia necessario un appassionato incontro e confronto io spero con l'aiuto di tutti di aiutare il cammino lunghissimo di questa chiesa a servizio di ogni ogni uomo e di ogni donna dentro un paragone incessante che tenda sempre al riconoscimento in vista di quello che io chiamo il compromesso nobile cum prometto promettiamo insieme questo mi sembra il senso del vivere ecclesiale con le debiti e distinzioni civile e questo secondo me fa già di milano un oasi dalla crisi si esce solo insieme sì la crisi economico finanziaria che chiama tutti a una rinnovata responsabilità a fare di più ma sapendo che chi ha il compito istituzionale di imporre sacrifici dovrà farlo con criteri obiettivi di giustizia che non si misurano solo con la crescita del pil il cardinale scola pronuncia suo primo discorso la città davanti alle massime autorità locale a oltre 140 sindaci del territorio e lo dedica forse non potrebbe essere altrimenti appunto alla crisi che definisce comunque in un senso più ampio a mio giudizio la crisi del momento presente chiede di essere letta e interpretata in termini di travaglio e di transizione è ben di più che una crisi economica però è ben più aperta al futuro e carica di speranza parlare di travaglio e non limitarsi a parlare di crisi economico finanziaria vuol dire non fermarsi non fermarsi alle pur necessarie misure tecniche per far fronte alle gravi difficoltà che stiamo attraversando crisi strutturale che trova le sue radici in una concezione riduttiva dell'uomo economicus preoccupato esclusivamente di massimizzare il profitto piattimento sul breve periodo dell'orizzonte di chi fa finanza e la spersonalizzazione l'anonimato dei rapporti finanziari non pagano realmente come stiamo vedendo il mercato non può essere considerato come un moloch che non deve essere scalfito insomma il monito del cardinale a chiare lettere quando anche riconosce l'odierna crisi non avrebbe potuto attacchire se non ci fosse stato un terreno di irresponsabilità diffusa quella che spinge a spendere sistematicamente per i propri consumi ciò che non si è ancora guadagnato un comportamento che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato così folle da oltrepassare perfino il livello della qualifica morale ora invece è percepito sempre più come normale ed è sistematicamente provocato si giunge alla pubblicità che senza vergogna incoraggia di indebitarsi per fare una seconda vacanza un richiamo morale e etico a 360 gradi che poggia nella dottrina sociale della chiesa ribadita da Benedetto XVI nella Caritas in Veritate non basta la competenza fatta di calcolo e di esperimento per affrontare la crisi economico-finanziaria occorre anche un serio ripensamento della ragione sia economica che politica come ripetutamente ci invita a fare il Papa Siamo come morti ma siamo persone vive vogliamo dignità abbiamo bisogno di lei signor Vescovo l'applauso che corre spontaneo tra le sbarre e raggiunge l'ottagono dove Antonio e Iuri stanno rivolgendo il loro doloroso appello al Cardinale Scola è quasi l'emblema della sua prima visita a quale Arcivescovo di Milano al carcere di San Vittore orintense concluse con la celebrazione eucaristica ma che hanno visto il Cardinale camminare e sostare bere anche un caffè tra i reparti il femminile poi il clinico e anche quello cosiddetto dei protetti da Arcivescovo a tutto negli occhi quando questa volta lui si rivolge direttamente ai detenuti 1553 di 60 nazionalità diverse quelli rinchiusi nello storico e vecchio in tutti i sensi penitenziario sovraffollato nel cuore di Milano arrivato qui ecco la sorpresa sono stato travolto, letteralmente travolto dal vostro affetto nei raggi che ho visitato nelle celle in cui sono entrato dove tutti avevano preparato per me una festa, un'accoglienza e ora questa grande sorpresa della vostra presenza massiccia, la Santa Messa non si può ridurre l'uomo e il suo reato continua l'Arcivescovo che sottolinea come le vecchie porte del carcere sia l'ambientazione del presepe e aggiunge in riferimento alla parola di Dio voi non siete di quelli che cedono anche se gli istituti non sembrano oggi essere adeguati come ha detto il Papa recentemente a Re Bibbia il sovraffollamento è una doppia pena non possiamo accettare un concetto di pena e di espiazione che non sia per il risorgimento per la rinascita dell'Io una società mostra il suo grado di civiltà dal modo con cui tratta le situazioni più delicate e difficili come la vostra, come quella degli ammalati bisogna pertanto che i luoghi, ma prima ancora le modalità della pena rispettino fino in fondo la dignità della persona per questo è necessario anche e proprio in questo tempo di grave crisi che questa crisi non pesi su coloro che sono gli ultimi nella nostra società il pensiero va al guaio, lo definisce il Cardinale di non lavorare dentro San Vittore e al diritto allo studio, alla lettura che deve essere garantito a tutti imparate prendete il tempo per leggere io lascerò un piccolo segno ai capellani perché comprino dei libri da aggiungere alla biblioteca magari delle Bibbie nelle varie lingue altri testi insomma investite energie positive poi come sempre l'abbraccio e l'affetto attraverso le mani che si tendono tra le sbarri e che circonda l'arcivestro ben ritrovati ancora con il nostro speciale vedrete adesso i mesi del 2012 dalla prima catechesi quaresimale in Duomo al lavoro, alla crisi, i giovani e poi una delle visite sul territorio compiute una delle tante dall'arcivescovo proprio per l'importanza che sappiamo e gli annette a questa attività sua pastorale infine i preti novelli 2012 le prime tre stazioni della via crucis per la prima tappa del cammino catechetico della quaresima 2012 con il cardinale scola dal Duomo gremito dove si svolge appunto la via crucis per le sue piaghe noi siamo stati guariti con straordinario raccoglimento personale e comunitario nella celebrazione dal titolo La Condanna magnifica anche l'icona scelta Gesù è condannato a morte dipinta dal Previati del 1888 e allora risuonano preghiere e parole di poeti note antiche invocazione al Signore di sempre mettiamo i nostri piedi dietro i suoi dice il cardinale che ha appena portato tra le mani la croce nella terza stazione e il suo è un richiamo al cambiamento del cuore riconoscendo nel sacramento della penitenza i propri peccati nella preghiera prima parola della quaresima che urge a noi cristiani di fronte all'innocente ingiustamente condannato l'innocente con la I maiuscola simbolo di ogni innocenza tradita ogni giorno purtroppo siamo colpiti da un diluvio di immagini e di notizie che ci dicono quanto l'innocenza sia disprezzata violata, sacrificata eppure solo l'innocenza è fonte di speranza e di edificazione umana e sociale il pensiero va subito alla città dove i legami si spezzano dove l'inaccettabilità rabbiosa di Dio pare riflettere l'arcivescova voce alta con una bellissima espressione e solo l'altra faccia del bisogno struggente di lui il suo sguardo implorante ci ripete non perdere di vista Dio Milano non perdere di vista Dio i rapporti tra noi e quelli sociali chiedono realismo e misericordia in una parola anzi nella seconda grande parola della quaresima chiedono carità la lunga e gloriosa tradizione cristiana di Milano la resa città solidale e perciò capace di valorizzare ogni libertà rettamente intesa proprio della persona e dei corpi intermedi tutte le nostre parrocchie le comunità religiose tutte le aggregazioni ecclesiali siano luoghi di vita buona del Vangelo per tutti la vita buona del Vangelo è una proposta interessante anche per chi crede e dice di non credere e infine una terza parola digiuno certo concreto bello anche il gesto caritativo finale a favore dell'ospedale Mettendere Mission Hospital i Cirundi in Zambia ma soprattutto chiedono digiuno come dominio di sé perché un uomo non è maturo finché non è cosciente del proprio limite peccato Eminenza riparte il fondo famiglia lavoro una nuova modalità nuove modalità e step diversi con che logica riparte? ma diciamo che la logica profonda è quella che la dottrina sociale della Chiesa ci insegna e cioè che la proprietà privata non significa possesso individuale non annulla la destinazione universale dei beni e di conseguenza la Chiesa intende farsi carico e condividere il bisogno di tutti questa è stata la logica che il Cardinal Dionigi ha seguito in questa geniale intuizione in questa seconda fase i collaboratori della Curia hanno messo a tema secondo me intelligentemente un adeguamento delle modalità anche in considerazione del fatto che la crisi che si pensava a più breve termine è ancora profonda e radicale e si sono cercate forme più rispondenti alla fase attuale della crisi nel cuore della festa patronale un paese intero borsano di Busto Arsizio con tutte le sue contrade che accoglie l'arcivescovo nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo fondata 70 anni fa in piena guerra come segno di speranza tra le devastazioni belliche sul sagrato i bimbi delle scuole materne dentro la chiesa si accende accompagnato dal canto gioioso il botafumeiro di Composteiana Memoria poi il ricordo del martirio prende fuoco la sfera insomma la celebrazione solenne come giusto che sia il cardinale lo nota saluta la comunità fatta di pietre vive ricorda il senso di vivere insieme il giorno del Signore e scandisce oggi è in crisi l'economia certo ma anche tutto un sistema quello che ha al cuore i fondamentali dell'esistenza i fondamentali come l'amore tra l'uomo e la donna il matrimonio la famiglia il valore del lavoro del rapporto con i nostri beni il bisogno profondo di solidarietà di comunione di condivisione soprattutto con chi è nella prova e il fondamentale dei fondamentali è il chiedersi in profondità chi è il Signore per me la conoscenza di Gesù cresce se tu cammini con Lui stai nella compagnia con Lui e questa è la chiesa questa è la comunità cristiana questa è la parrocchia un'esperienza che in un momento di crisi come oggi aiuta si sono impennate le iscrizioni agli oratori sì certamente questo è un elemento importante nella sola realtà della diocese di Milano che ha tantissimi oratori sono più di 450 mila i ragazzi che stanno vivendo questa esperienza d'oratorio estivo ed è secondo me è uno degli elementi con cui possiamo affrontare il travaglio e la crisi in cui siamo immersi con più speranza c'è l'astrofisico e chi era destinato a fare il chimico che ha deciso di riprendere proprio a Milano gli studi in seminario chi ha 40 anni 6 vengono dalla metropoli gli altri in ordine sparso da ogni parte della diocesi 21 storie diverse ma unite dal filo rosso di una scelta coraggiosa che le legherà per sempre l'amore per il Signore e il darsi interamente a Lui nel sacerdozio sono i 21 Pretti Novelli 2012 della chiesa di Milano che insieme a un religioso dei frati minori hanno ricevuto l'ordinazione presbiterale dalle mani del cardinale Scola il Duomo è come sempre cremito per questo momento cardine della storia di ogni chiesa locale e di quello universale un eccomi coraggioso specie nella realtà di oggi carissimi di fronte all'ampiezza di orizzonti propria del Ministero presbiterale non potete non possiamo noi presbiteri che vi facciamo corona non sentirci ancora oggi dopo tanti anni come voi tremare un poco le vene e i polsi siamo infatti strutturalmente impari ad un dono così grande a una missione così impegnativa sproporzione espressa dall'io ma non più io di San Paolo perché strumenti dell'amore gratuito di Dio da presbiteri chiamati a far risplendere la loro vita come luce nel e per il mondo in un'unione inscindibile come ha detto proprio Benedetto XVI in Duomo tra il bene del sacerdote e la sua missione la carità pastorale è elemento unificante di tutta la nostra persona e la nostra azione ecclesiale uomini di preghiera uomini di comunità e per questo uomini per il bene del mondo anche dell'affascinante e travagliato mondo postmoderno di oggi sono questi siete voi così concepiti poi i riti suggestivi antichi e sempre nuovi dell'ordinazione dal silo voglio dei candidati alle litanie dei santi gli eletti che si prostrano attorno all'altare maggiore e ancora l'imposizione delle mani nel silenzio totale della cattedrale la vestizione degli abiti sacerdotali l'unzione crismale lo scambio della pace e c'è al termine ancora tempo per qualche parola dell'arcivescovo per guardare con fiducia e responsabilità al futuro sia nella scelta del matrimonio fedele e fecondo sia che si desidera il ministero ordinato se avete nel cuore questa inclinazione non dovete rimandare questa iniziativa in un futuro indeterminato dovete agire subito infine in episcopio per le destinazioni e qualche raccomandazione dell'arcivescovo prima della festa e ora concludendo lasciamo la parola ancora al cardinale con quella che ci pare un'indicazione e una sfida per il futuro della nostra chiesa ma dell'intera terra ambrosiana noi ci rivediamo con la chiesa nella città il 6 settembre e quindi arrivederci il mio saluto più caro davvero a ognuno di voi e soprattutto adesso che Milano è diventata con tutta la regione una realtà effettivamente metropolitana di peso mondiale e io sono certo che ci sono tanti punti vivi a livello economico produttivo a livello civile a livello sociale a livello politico bisogna guardare questi punti vivi perché facciano facciano rete e consentano una rigenerazione quella rigenerazione della società che appunto gli eventi assolutamente nuovi del terzo millennio possano diventare fattori di costruzione a livello